I problemi di carenza di organico sono in tanti settori di questa città, anche nella magistratura. Io sono fiducioso che cominci una nuova stagione in cui l'investimento nelle persone, nella qualità dell'amministrazione sia uno dei valori per la crescita del futuro. La città ha bisogno di competenza, di qualità, di giovani e questo credo che in tutti i settori e mi auguro che il governo e i governi futuri possano investire in questa direzione.